Diverse sono le segnalazioni che continuano a giungere su ciò che non va all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e soprattutto al pronto soccorso. Ricordiamo anche che i cittadini di San Cataldo, con Claudio Lipper in testa e il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme, stanno facendo una raccolta firme davanti al comune di San Cataldo ogni domenica e in altri punti commerciali per chiedere il potenziamento del pronto soccorso. Stessa cosa sta facendo Sergio Cirlinci, amministratore del gruppo Facebook Caltanissetta 4.01, ha lanciato una petizione online. Ma chi si è sempre battuta per il potenziamento del pronto soccorso Sant'Elia e per ciò che non va all'interno del Sant'Elia è il consigliere comunale del PD, Annalisa Petitto, che adesso sentiremo. Annalisa, le segnalazioni giungono, tu hai fatto tantissimi video, tantissime proteste, ma nulla cambia. Allora, diciamo intanto che i servizi sanitari nisseni, la sanità nissena, se non è tra le peggiori in Italia, lo è certamente tra quelle della Sicilia. La responsabilità indiscussa di una sanità a questi livelli, che leggiamo quotidianamente dalle denunce dei cittadini, è attribuibile certamente al direttore sanitario, la nissena Marcella Santino, da 12 anni al potere della sanità nissena e anche del direttore generale Alessandro Caltagirone, che comunque è al traino della Santino e che evidentemente è preso e compreso dalle vicende della sanità palermitana, anche in considerazione del fatto che dirige il policlinico di Palermo. Se pensiamo alla sanità nissena, pensiamo a un feudo, a un feudo ad uso e consumo dei pochi adepti, a uso e consumo dei potenti, e che nulla ha a che vedere invece con i servizi sanitari offerti ai cittadini nisseni, che invece ogni giorno subiscono mortificazioni, diritti primari calpestati. Se solo pensiamo quanto percepiscono ogni anno questi super direttori, centinaia e centinaia di migliaia di euro, poi ci facciamo un conto sul rispetto a cosa ci offrono, un pronto soccorso che è un lager, non ho difficoltà a definirlo così, anche perché così lo definiscono i cittadini nisseni, dove i malati sono abbandonati a se stessi, su sedie di ferro, su barelle per giorni e giorni, in attesa di esami clinici, di dimissioni o eventualmente di ricoveri a fronte di posti letto che dovrebbero liberarsi totalmente da soli, con un bagno che è per uomini e per donne, un unico solo per tutto il pronto soccorso, senza assistenza perché i familiari sono relegati fuori in attesa del bollettino sanitario che quando arriva, arriva solo e esclusivamente nelle ore serali e poi comunque ricordiamo anche che il nostro Sant'Elia annovera ancora ematologia e oncologia corpati, pneumologia chiuso, neurochirurgia e neurochirurgia vascolari ancora accorpati insieme addirittura ad oculistica e otorino, cos'altro, liste d'attesa assolutamente interminabili e tutto questo perché vogliamo non parlare o non vogliamo ricordare cosa è accaduto durante la pandemia, lo ricordiamo tutti, famiglie sequestrate a casa in attesa di tamponi o di provvedimenti di rilascio, categorie fragili e assembrate sotto la pioggia, al freddo, sotto gli ombrelli per le prime somministrazioni di vaccino. Davanti a una sanità di questi livelli che, ripeto, non lo dico io, Annelisa Petitto, lo grida oramai da tempo la città, i cittadini che preferiscono molto spesso fare le proprie, affidarsi alle ospedali come quello di Enna, quello di Palermo o di Caltanissetta. Cosa fa la sanità, i potenti della sanità nissena? Tagliano nastri, organizzano convegni, organizzano festival, probabilmente solo e esclusivamente per ostentare i rapporti con i vertici del governo regionale. La città si arrabbia, i cittadini denunciano, i giornali scrivono e loro indifferenti e silenti. come indifferenti è silente e anche il sindaco, la sua giunta, e possiamo anche dirlo, a 360 gradi la politica di questa città. Mi permetto di evidenziare che il sindaco, anziché andare a braccetto con questi potenti della sanità, dovrebbe dar voce al grido d'aiuto che arriva dalla città di Caltanissetta, dovrebbe sbattere i pugni sui tavoli che contano, anziché non perdere mai l'occasione invece per lodare i risultati di questa gestione della sanità. Perché, parliamoci chiaro, o il sindaco è fuori dalla realtà, o è talmente preso da sé che non sente più la città e non legge più, evidentemente, neanche i giornali, e se non ci fa, c'è. Il sindaco e il deputato Michele Mancuso, che presidia la città, devono spiegare prima o poi alla città il motivo del loro silenzio, il motivo delle loro omesse recriminazioni rispetto a dei servizi sanitari che non esistono per la città di Caltanissetta. E ci dovrebbero anche spiegare chi o che cosa gli impedisce invece di far valere i diritti dei nisseni. La storia recente di Caltanissetta ci insegna che certi superpotenti, certi sistemi di potere, che sembrano inarrivabili, che sembrano non scalfibili, poi alla fine crollano e si archiviano. E sarà certamente anche per questo tipo di sanità nissena, anzi, prima accade e meglio è per la città stessa. Anche perché quelli che ne pagano le conseguenze sono i cittadini e come hai ben detto, nonostante le pubbliche denunce, nulla cambia. Sperando che qualcosa prima o poi arrivi ai vertici regionali e qualcosa possa cambiare. Perché quello che subiscono al pronto soccorso, soprattutto gli anziani, da quello che ci viene segnalato è davvero pesante. Assolutamente sì, come sempre, il prezzo più alto lo pagano sempre le categorie fragili. Attenzione, non solo gli anziani, è categoria fragile qualunque cittadino che sta male, che ha bisogno di cura, sia esso over 40, over 20 o over 80. Chiunque sta male e ha bisogno di cure è categoria fragile e a loro va dato non solo sostegno, non solo cura, ma soprattutto rispetto e dignità. Grazie a tutti.